Per la commemorazione dei defunti il 2 novembre, giorno successivo alla Salonità di Tutti i Santi, i cimiteri si rinnovano in un certo senso, maggiore pulizia e attenzione alla viabilità, soprattutto in quello monumentale dell'Aquila. Non ci sono al momento le restrizioni dell'anno scorso, dopo l'ordinanza regionale che ci fu fatta dal presidente Marsilio, che dava parecchie limitazioni e quest'anno sarà possibile celebrare anche le messe all'interno dei cimiteri, come molti sacerdoti faranno. L'assessore Fabrizio Tarantaca, la delega ai cimiteri, spiega che sono stati fatti molti interventi. In questi giorni soprattutto abbiamo concluso numerosi interventi di manutenzione straordinaria in alcuni cimiteri delle frazioni, mi viene in mente Baganica, dove è stato appena sistemato un nuovo campo a terra, ma sono stati sistemati in questi ultimi giorni le coperture dell'oculari dei cimiteri di Sassa, di Preturo, sono stati fatti interventi su a rischio e altri ancora sono programmati nei cimiteri della frazione, mi viene in mente ad esempio Bagno. Stiamo facendo un grande sforzo anche in prospettiva futura e mi riferisco agli ampliamenti che sono ormai giunti, almeno da un punto di vista amministrativo, quasi a termine, del cimitero di Santi, di Filetto, di Roio, di Paganica. Sul cimitero monumentale ovviamente l'attenzione è sempre molto alta e quindi stiamo cercando soprattutto in questo periodo di andare a creare delle condizioni migliori possibili. In vista della ricorrenza del primo novembre abbiamo anche cercato di abbellire un po' con alcuni fiori e proprio per questa ricorrenza del primo e del due novembre è stato interdetto il traffico veicolare all'interno dei cimiteri con qualsiasi mezzo motorizzato, voglio precisarlo per ricordarlo ai cittadini di avere rispetto in questi giorni dell'ordinanza che è stata imposta e della buona fruizione dei cimiteri della nostra città. Il cimitero dell'Aquila in particolare spesso è stato oggetto di polemiche per l'area danneggiata dal sisma ancora chiusa e di aspre polemiche, eppure tra qualche consigliere di opposizione e l'assessore Taranta qui qualcosa si è mosso con il locurario dei nove martiri e anche nei cimiteri delle frazioni sono previsti interventi che però sono di ricostruzione pubblica e non attengono al settore ambiente.